Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono Maxi e questo è un nuovo episodio di tuning in GTA Online Ragazzi andiamo a modificare questa auto ragazzi Che esteticamente a me piace molto Mi piace molto perché è già di suo già in stock Diciamo è abbastanza modificata E questa auto ragazzi la troverete in leggendari motosport Fa parte della categoria super Si chiama Flash GT E ha il valore di 1.675.000 dollari Allora Il prezzo ragazzi per una sportiva 1.675.000 dollari Mi sembra un pochino esagerato Però calcolato che Oramai tutte le auto in GTA Online Cominciano a costare veramente un botto di soldi Ci potrebbe anche stare Per quanto riguarda l'auto in sé Che esteticamente è molto 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 bella Devo dire la mia Per quanto riguarda le modifiche ragazzi Ci sono veramente un botto di modifiche Su quest'auto Che non so Assomiglia vagamente a una Focus A me quando io l'ho vista la prima volta Ha ricordato una Focus Però il dietro non riesco Ad associarlo a nessun veicolo sinceramente Però torno a dire È veramente molto bella Anche se il prezzo è veramente esoso Per quanto riguarda le prestazioni Ragazzi io l'ho provata in pista Non so se caricherò un video Con anche il link della pista Dove potrete fare tutte le vostre prove Ho creato una pista di 10 km Per fare i test di guida Sulle auto È una pista tutta dritta Molto larga E potete Andare sulla pista E gareggiare L'importante è che vi ricordate Alcuni particolari Che poi magari dirò nel video Che dire di quest'auto ragazzi Allora quest'auto Secondo me Non è una delle migliori Esteticamente Ve l'ho già detto È bellissima Almeno a me piace tantissimo Perché poi ha un botto di modifiche Dipende sempre come la fate voi Insomma se non la fate troppo Come dire Pacchiana Coatta Troppo damarra Insomma non lo so Vedete voi Il termine è giusto Però comunque sia È una bella auto A parte quello Provandola in pista Con altre sportive Con alcune Alla meglio E con altre no Allora per esempio La pariglia È l'auto più veloce Tra le sportive ragazzi Abbiamo fatto varie prove Nel pomeriggio Così ma giusto per sfizio Perché Come ho già detto Avevo creato questa Questa gara E ancora la dovevo provare Stavo aspettando proprio Che uscisse questo DLC Cioè questo DLC Queste auto nuove Per Per poter provare Magari se ci fosse stata Una super nuova O qualche altro Tipo di auto nuova Per provare Questa auto E Dopo varie prove Comunque Diciamo Siamo giunti A questa conclusione Poi a livello di freni Non è che va molto bene Diciamo che C'ha parecchie Pecche Il mio discorso Ragazzi È sempre quello solito Se avete i soldi E la volete comprare Perché vi piace come auto Compratela Ma se non avete i soldi E pensate Che questa auto Sia una delle auto Buone per correre Lasciate proprio perdere Perché C'ha parecchi Rifettucci Insomma Come ho già detto Un milione Rotti Insomma E 700 Quanti cazzo so Secondo me Sono troppi i sordi Per un'auto Che A livello di competitività Non è molto competitiva C'ha il suo che C'ha il suo fascino Per carità di dio Però Per quanto riguarda Il resto Per me non vale Quindi Io consiglio Di non comprarla Se non avete i soldi Ragazzi Questo qui Che state vedendo È il mio Stile di auto Come Come l'ho Concepita io Questa auto A me piace molto In questa In questa veste Insomma Con sta livrea E tutto il resto Poi vedete Che ho messo Un colore metallico Con un perlescente Infatti Ci ho impiegato Un pochino Per Per fare La colorazione Che ne Mi sono perso Non ci ho capito Un cazzo E quindi Ci ho impiegato Un pochetto De tempo Per far Sta cazzo De colorazione Particolare Devo dire Che è molto bella È riuscita Anche molto bene Secondo me L'auto E ci andiamo Ad abbinare Questi cerchi Che non sono Affatto male Anzi Sono i miei preferiti Come ho sempre detto I GT Chrome E i Super 5 Sono i miei cerchi preferiti Che dire L'auto in sé È bella È carina Ve lo ripeto Un'altra volta Ragazzi Se siete Collezionisti Di auto Vi piacciono Le auto Compratela Se avete Pochi soldi Nulla comprate Soprattutto Se pensate Che questa auto Sia veloce No Non è assolutamente Così Non è tra le più Veloci Non è veloce E Questo ve lo posso Garantire Su una pista Di 10 km Che abbiamo provato Tutta dritta E Non va Non va Assolutamente Come Detto questo Ragazzi Non ho Nient'altro Da aggiungere Posso solo Che farvi Vedere L'auto Nella sua Bellezza Perché L'auto È questa Quindi La faccio Vedere Insomma E Nient'altro Ragazzi Quest'altra Quest'auto Insomma Non ha Molto Da offrire Secondo me Poi Insomma Fate voi I soldi Se i vostri Investite Come vi pare La barca La vostra E ci fate navigare A chi bevare Detto questo Un saluto a tutti Al prossimo video Sous-titrage Grazie a tutti.